Ciao a tutti, sono Vincenzo da Coppa d'Oro e credo cosa, sì, ho una nuova per voi questa settimana! E cosa faremo per voi questa settimana è Jack Carroll Jack Carroll, per voi questa settimana la Coppa è solo 9 dollari, grazie, salute! Mr. Kariak, easy to drink, they have to pronounce!